Perché ogni momento è buono per attivare un piano di accumulo del capitale comunemente detto PAC? Perché affronta i mercati con metodo, dilazionando l'investimento nel tempo e mediando i prezzi di acquisto, caratteristica che lo rende anche un ottimo regalo per figli e nipoti, un regalo redditizio e istruttivo. Investire in un PAC significa partecipare ai rialzi dei mercati azionari che arrivano sempre dopo ogni possibile calo. Dal 30 novembre 2006 al 19 novembre di quest'anno l'indice globale MSCI è salito del 121%. Per non perdersi i giorni migliori di questi rialzi ed evitare l'ansia da market timing, un PAC è la soluzione ideale per tutti, già a partire da piccole somme. 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 a partire da piccole somme.